In coda Tio Pepe ha mancato il break e dal gruppo sono veloci Jeff che viene subito affiancato da Morgan il Capitano che lo va sopravanzare di prepotenza. A ridosso Ben Point avanza anche Strategic Teamwork al pari di Derek Drive, poi ancora per via interna Carresana. In avanti Morgan il Capitano, a buonissima Lena, Jeff in seconda, al terzo rimane invece Strategic Teamwork, all'interno guadagnato a posizione anche Zepp Maio con la giubba a scacchi blu e azzurri del caparancio. Ben Point a ridosso in fucsia con in scia Derek Drive che galoppa in sesta posizione, poi ancora Sicur, l'altro rencati, quello con i bracciali. A precedere Rageno che avanza a largo su Scarface, ancora che sprint, il gruppo molto allungato perché Morgan il Capitano ha disintegrato il gruppo stesso. Jeff e Strategic Teamwork con quest'ultimo che lo sopravvanza e si avvicina, a largo Sicur per via interna Zepp Maio, poi Rageno e gli altri più arretrati. A paletto di 400 Strategic Teamwork che attacca e passa, deve fare i conti con Sicur, poi Zepp Maio che prova a intervenire, Rageno che è ancora dietro. Strategic Teamwork contro Sicur, i due vanno via da soli, all'ultimo a farlo, Strategic all'interno, ci prova Sicur con le unghie e con i denti, Strategic Teamwork lo tiene a bada nell'ultimo tratto, Strategic Teamwork controlla e viene a battere Sicur. Rageno fa ancora in tempo a fare il terzo su Derek Drive. Strategic Teamwork colpisce dopo due buone prestazioni, la terza è quella buona, Piero Antonio Convertino per il team in con l'interno ai colori, il signor Biondi al training. Grazie a tutti.